buongiorno sono riccardo di fbbike.it proseguiamo con il montaggio della mia nuova ebike full sospensio da enduro ma oggi dobbiamo scegliere i freni perché dobbiamo scegliere freni perché dobbiamo passare il tubo del cavo idraulico per la pinza posteriore come vedete è già passato se siete curiosi di sapere che freni ho scelto seguitemi prima di svelarvi quale freni ho scelto vi voglio portare a conoscenza che la mia decisione è stata presa in base a un discorso di prezzo qualità dato che queste bike finita completa non dovrà superare 4.500 euro essere comunque una toppe di gamma e la scelta era fra questi tre tipi di tre marchi di freni con la seguente tipologia ovvero immagura i nuovi immagura mt5 e spot e stop che comunque si aggirano su quella fascia di prezzo di 250 euro che mi sono prefissato oppure gli sram guide o g2 o gli re però questi non non mi piacciono molto gli sram io preferisco gli ultimi ovvero gli shimano gli shimano slx che a mio parere su una fascia di prezzo che sta intorno i 250 euro sono i migliori freni che che potevo trovare in questo momento i nuovi shimano slx in quale configurazione ho deciso di montare all'anteriore gli m7120 mentre al posteriore ho deciso di montare gli m7000 ovvero i quattro pistoni all'anteriore e i due pistoni al posteriore quindi un freno una pinza freno differente perché questa scelta innanzitutto i nuovi slx shimano li ho provati li ho provati sulla sempione team sono dei freni fantastici hanno il pistone in ceramica anzi ve li faccio vedere questi sono le pinze slx a due pistoni per il posteriore che ora vi posso svelare ecco qua ho usato un due pistoni un slx di questo tipo perché questa scelta invece di un quattro pistoni al posteriore le slx è un freno molto performante leggero e come vedete non so all'interno monta i pistoni ceramici i pistoni ceramici consentono un ottimo dissipamento del calore è una pinza che funziona molto bene anche quando è riscaldata e la sensazione della frenata shimano è una sensazione unica la leva non va mai a fondare a freno caldo è una è una frenata pronta le i ricambi freni non costano un'esagerazione quindi freno posteriore due pistoni slx freno anteriore quattro pistoni sempre slx più abbiamo le leve a due dita che sono veramente fatte bene con l'autospurgo la regolazione per la distanza dalla leva in alluminio con l'arino per bloccarla al manubrio quindi la scelta dell'essere del slx shimano è dovuta sì da una qualità ho scelto io non per risparmiare qualcosa di mettere un due pistoni anziché un quattro pistoni al posteriore perché io al posteriore preferisco avere una frenata un po più modulabile mentre all'anteriore preferisco avere una frenata potente potente perché un e bike già di per sé si aggira sotto i 25 kg io sono 80 kg guido molto caricando l'anteriore da ex motociclista molto probabilmente e quindi preferisco avere un quattro pistoni una frenata più potente e un due pistoni per quanto riguarda il posteriore il prezzo che abbiamo trovato per un impianto freni slx di questo tipo per me è un prezzo insuperabile però dobbiamo aggiungere una modifica perché il kit nel posteriore prevede le pastiglie tradizionali quindi le pastiglie che non sono ventilate quindi dobbiamo aggiungere circa 20 euro per mettere le nuovissime j03a che sono le nuove pastiglie della shimano che hanno una mescola particolare permette al freno di durare di più e avere una frenata maggiore però la scelta ripeto dei due pistoni al posteriore anziché i quattro è dovuta a una mia necessità non seguendo la moda a me è sufficiente avere i due pistoni al posteriore voglio una frenata più modulabile un freno al top con con pistoni in ceramica piccolo e leggero quindi vado a risparmiare qualcosa anche sul peso anche se poco mentre davanti metto il quattro pistoni proprio per avere una frenata decisa nei quattro pistoni slx m7120 sono già comprese quindi le pastiglie i freni high stack ventilati spesa compressiva per i nostri quindi l'impianto freni sono 200 euro in descrizione trovate il link dove ho acquistato ma ora andiamo a vedere cosa abbiamo fatto cioè il passaggio dei cavi l'installazione delle staffe della batteria per poi proseguire con il montaggio all'interno del telaio ora dobbiamo bloccare per bene i cavi quindi passa dietro all'attacco batteria all'interno del motore e fino ad uscire dal reggisella inoltre abbiamo passato il cavo del cambio bianco perché ci piaceva di questo colore è una guaina particolare perché è un kit con il cavo in teflon ad alto scorrimento un cavo molto prestazionale dall'altro lato potete vedere il freno idraulico quindi il cavo idraulico la guaina idraulica shimano attaccata alla pinza slx questo è il cavo del sensore modello 2021 praticamente il sensore sarà sul disco del freno e questo è sul telaio proprio in prossimità del disco del freno sono stati messi i gommini anch'essi arrivano all'interno e passano sulla parte superiore del telaio qui andremo a mettere il motore intanto abbiamo passato questo è il cavo del sensore posteriore mentre questo qui è il cavo di collegamento batteria e ricarica cavo della batteria manca il cavo del display inseriti gli anellini in plastica passa cavi e abbiamo montato l'attacco per il ricarica della batteria quindi a questo punto dobbiamo passare solamente il cavo display e possiamo andare a rimontare il motore ricapitolando questa è la mia scelta freno shimano slx m7120 m7000 spero che questo video vi sia piaciuto mettetevi un like e ci vediamo alla prossima fase di montaggio a presto un saluto da riccardo ciao